Rimane il fatto che la preoccupazione per la variante Delta è proprio quella che mi è stata trasmessa dalla Moratti quando mi ha chiamato, quindi io capisco che ci sia una preoccupazione e dobbiamo veramente ragionare con l'idea che appunto non ne siamo fuori, per cui anche per quello io come tanti altri stiamo chiedendo di anticipare l'elezione perché andare a un ballottaggio il 25 ottobre ci si è sbagliato. A quelli che mi dicono quindi lo faccio perché ho paura dell'esito elettorale, no io ho paura del Covid, non ho paura dell'esito elettorale.